Al Museo Diffuso di Corso Valdocco sono state presentate le iniziative per il giorno della memoria 2014, ricco il programma di appuntamenti tra celebrazioni, musica, teatro, convegni. A Palazzo Lascaris il 20 gennaio la presentazione del libro 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani. Direttore Vaglio, anche per il 2014 un ricco calendario di iniziative organizzate da Consiglio regionale, provincia e comune di Torino. Sì, anche quest'anno si conferma ancora più che negli anni passati un programma unitario, ci fa molto piacere che le tre istituzioni a Torino sostengano un programma di iniziative per il giorno della memoria, il museo ha una parte attiva in questo, proponiamo come sempre iniziative molto differenti che vanno dalle occasioni di studio e di approfondimento a appuntamenti musicali, teatrali, rivolti alle scuole, rivolti ai giovani. Il senso è quello di utilizzare questa data non solo come occasione di cerimonie, ma come occasione reale di proposte, di riflessione, di lavoro, soprattutto con le generazioni più giovani.